Il libro è nato da solo come conseguenza di un turbamento, di una perturbazione forte che ho subito quest'estate, quando il Mediterraneo ha cominciato a essere navigato da queste imbarcazioni piene di migranti alle quali non veniva dato un porto, dove si sommava dramma a dramma, dove si ascoltavano anche dichiarazioni inaccettabili nella forma oltre che nella sostanza, questa cosa mi ha molto turbato, mi ha proprio cambiato la mia vita, stavo scrivendo un romanzo per i fatti miei, che le cose anche le più terribili o anche le più belle te le raccontavano loro e io ero in quel momento convinto che sarei andato anch'io e che quindi avrei potuto assistere a scene terribili o anche a scene invece molto felici e un po' l'ho anche spenta l'immaginazione perché non mi serveva più. I racconti sono entrati in qualche modo a far parte dell'operazione? Indirettamente? Allora è evidentemente tutto ormai racconto, anzi ora va di modo a dire narrazione, ma è tutto racconto anche quello che c'era prima e non può arrivare qualcuno che ci dice la narrazione adesso è questa, la narrazione è che quando c'è un naufrago in mare è una legge millenaria, la barca più vicina, la nave più vicina devia la rotta, soccorre il naufrago e lo sbarca nel porto sicuro più vicino, questo è il racconto, il resto sono sciocchezze, sono fregnacce che vengono raccontate sopra, per cui per ristabilire anche un po' una priorità, perché questo è un principio fondante, il soccorso, ragazzi il soccorso, non è che a una persona che sta per la terra sanguinante gli chiedi i documenti, l'ambulanza lo pide e lo porta all'ospedale, a pronto soccorso, poi si vedrà che persona è e se merita o no di stare libero nel nostro paese, ma in acqua si muore in giro di due minuti, ma che scherziamo? Siccome si è scherzato, si è fatto campagna elettorale, non soltanto in Italia, non soltanto Salvini, questo va detto, c'è una situazione di un pass politica per tutta l'Europa, hanno tutti paura a tirar fuori un naufrago dal mare come se dovessero perdere 10 mila voti, è una cosa veramente brutta che verrà ricordata come una pagina veramente oscura della democrazia occidentale. Nel frattempo il romanzo? Nel frattempo il romanzo è rimasto fermo, la testa è andata proprio via, adesso devo fare un ulteriore ritorno, il libro che ho pubblicato è un ritorno da luoghi dove non sono stato, ma dove la mia mente è stata, adesso poi devo ritornare a quel luogo lì che per un certo tempo mi sembrava veramente insensato, stavo parlando di cose che avevo inventato io, di morti che avevo inventato io e là c'erano quelle, adesso sto tornando lì in questa convenzione nella quale ho vissuto anche bene, perché a me piace la narrazione di finzione per tanti anni, è un lavoro però lungo perché la testa fa presto a cambiare direzione. Ma si intendeva come un pochino screditato come autore di finzione di fronte all'urgenza di questa carne, una domondona. No, no, io conosco molti scrittori che stimo molto che non si azzardano mai a inventarsi una balla, una storia con un personaggio che si chiama Zeno Cosini e che smette di fumare, no, devono insomma masticare del vero, spesso ci mettono il loro nome e la loro esperienza, fanno quella che si chiama autofiction, se ti ritrovi scaraventato su una cosa reale così, così con tale precedenza come è successo a me quest'estate, dopo si fa fatica a ritrovare questa sofisticatissima, da quel punto di vista lì, mentre la gente muore davvero, questa sofisticatissima convenzione per cui anche dicendo balle si dice la verità. Ora ci sto tornando, è la mia acqua, quindi non è che… però ho capito molto di più quelli scrittori che non fanno mai un romanzo vero e proprio, ma devono sempre metterci del vero, del vero in partenza, a me basta che il vero ci sia all'arrivo, alla fine, però ho capito che differenza c'è.